Musica Parliamo di dispositivi medici, valutazione di efficacia, impatto sociale, cosa possiamo fare per migliorare? Possiamo fare tantissime cose perché nel nostro paese abbiamo sviluppato delle metodologie che sono appropriate per la valutazione dell'efficacia e anche degli aspetti economici, quindi dell'impatto economico e sociale, dell'introduzione dei dispositivi medici. Queste metodologie ormai sono, posso dire, anche abbastanza mature, conosciute dalla comunità scientifica, ma anche non soltanto dalla comunità scientifica, anche da coloro che fanno le valutazioni. Si tratta semplicemente di mettere un po' a sistema le conoscenze del nostro paese e di organizzarle in processi condivisi. La speranza è che con il patto della salute dello scorso luglio si possa veramente dare inizio ad una valutazione complessiva, sistematica ed organizzata dell'efficacia e dell'impatto economico dei dispositivi medici in Italia. Grazie.